Domenica di festa lo scorso 21 gennaio per la sezione della Col di Retti di Mati che per l'occasione ha proposto la tradizionale festa di Sant'Antonio. Alle 10.30 la Santa Messa ha la presenza di tutti i labri e delle associazioni locali, ufficiata da Don Vincenzo Marino, parroco di Mati, a cui seguito è innanzitutto il sagrato della Chiesa la tradizionale benedizione dei trattori e degli animali e la distribuzione dei pani benedetti. Alle 12.30 la tradizionale pranzo ha chiuso questa giornata di festa matiese.